Ele tu sai cosa fare bravissima facci vedere oh yeah e 10 perfetto hai ricevuto grandissima la mia Ele che belle sei pronta per essere stata di Sofia Land dimmi tutto io sono la VIP di Abu Dhabi sei la VIP di Abu Dhabi cosa perfetto vieni un po' più vicino a me bravissima ok vuoi fare buongiorno Sofia Land con me al 3 ok 1 2 3 buongiorno Sofia Land bravissima sono qui oggi con una persona che sicuramente riconoscete la mia cara amica Eleonora Eleonora sai che il tuo video è andato super virale si sei una super stella molto ci sei divertita con il giorno si brava sono molto contenta oggi Eleonora ci presenterà la sua squadra di ginnastica vero? si e faremo un allenamento insieme commentate sotto il vostro elemento preferito della ginnastica ti piace questo commento? si hai in mente un altro Eleonora? no no ti piace questo? si ok elemento preferito sotto questo video e iniziamo subito Martina ok ciao Martina Yasmina ciao Yasmina ciao e Anna Anna ciao Anna ciao ciao bellissima come ti chiami? Sara Sara benvenuta a Sofia Land Sara e Elisa e Elisa Elisa ciao Elisa e abbiamo Giulia Giulia ciao Miss Giulia ciao come stai oggi Giulia? bene benissimo e poi Ele? Gloria ciao Gloria ciao grazie di essere venuta a fare il video con noi oggi e abbiamo Giada ciao Giada ciao Giada come stai? è un po' meglio un po' meglio sono molto contenta amore oggi faremo la ginocchio insieme la nostra stessa passione che abbiamo si possiamo farla insieme oggi siete contenti? si bene bene iniziamo con una cosa che vi ho portato ok ho portato qualcosa a ognuno di voi vi piacciono i regali si tutti vedete vedete oh perfetto allora questo regalo sorpresa e quindi aspettate qui un secondo va bene vieni con me le lettere ok mi viene a mano mi piace leggere? si perfetto perché oggi avrete ognuno una coppia per il mio libro e alla fine dell'alimento vi raffirmo ok e l'esmina bravissima Giovanna Sara perfetto ci abbiamo tutte? si perfetto tu ce l'hai già però non potevo venire essendo portate qualcosa Ele quindi mi sono ricordata se mi ricordo bene che a te piace molto il cioccolato la cioccolata o la marmellata? cioccolata cioccolata è vero questa cosa? si si ok aspetta qui Ele quindi Ele questo è per te da 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 grazie ti piace Kinder? si ok meno vale bene se volete metterli via poi possiamo fare un ginnastico di Ele ok fantastico ok Ele super Ele fatevi vedere un bellissimo elemento della ginnastica wow wow bravissima super Ele vai Marty wow bravissima Marty vai Yas Capriola bravissima Yas bravissima wow super bella vieni con me adesso facciamo la ruota insieme ok pronta normale come fai sempre ok bravissima fantastica imparestivi della tua speccata wow guarda che fantastica bravissima wow wow oh my con un giro intero un giro intero un giro intero fai wow wow super cambio di case bellissima wow super cambio di case bellissima wow super cambio di case bellissima bravissima 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 schipa lì indietro schipa lì indietro quindi ci vediamo indietro così ok vieni wow 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 cosa facciamo salti pennelli salti pennelli salti pennelli vi seguo e vi percepati facciata ok pronti si oh che le mani che le mani si ok poi si velocissima E' bellissima! Bellissime le punte! Oh, belle le pari! E' vero, delle farfalle! Pronto, farfalla? Via farfalle! Viene un pollo! Che belle mani! E' un bel... Come li chiamate questi? Salto di Heidi! Salto di Heidi? Vedi la nostra finezza? Si, Heidi salta nei prati così! Adoro! Adoro! Però, questi salti di Heidi con le punte come? Tese! Tesissime! E' vero? Mi fa vedere le vostre punte? E' bello! Le mie sono sono i denti oggi! Ehi! Ehi! Noi andiamo insieme, mi sa! Loro spesso non hanno idea della loro corporeità Per cui, se tu gli dici cammina sui talloni vanno in tilt Cammina come il pinguino oppure metti le mani davanti ai piedi non hanno proprio la processazione per poterlo fare Noi andiamo tantissimo per immagini ti dico il passo di Heidi l'elefante il pinguino Cioè, in un corso normo direi si camminate sui talloni o camminate sulle... Però, per loro è immediata Cioè, cosa dobbiamo fare adesso? I pinguini dobbiamo fare E siamo riusciti Così dobbiamo fare Se tu hai l'idea visiva di che cos'è Loro ci mettono in te a duplicarla, a scezzarla Faccio le pinguine con le mani così Che rumore fanno i pinguini? Qua 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 Siamo le pinguine, che bello Che bello Sono un marshmallow Dai, allenamento Ok, e adesso cosa facciamo? Che male male saremo adesso? La giraffa La giraffa Perché Silenzio Bravissimo Volevo farci arrivare Sofia Perché La giraffa La giraffa Si Cerchiamo di essere più alti che possibile Usando tutto E immagino che Per essere ancora più alte dobbiamo stare sulle punte È giusto? Sì È giusto Ok, sulle punte Pronte Cammino Giraffino in fondo Bravissime Oltre Chi è la giraffa Più alta Eh Gloria Ragazzi Ahahahah 5 5 Ah Mi faccio sull'entico nella scella Ah Ti sta facendo sull'entico Ho fatto una giraffa Fino al sole Non devo prendere il sole Prendere la Prendere anche gli altri un gallivo Prendono 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 Bravissime Ora devo andare a toccare l'acqua sotto i piedi E c'è l'acqua Tocchiamola Bravissime Bravissime La nostra pizza È qua davanti a noi La mozzarella Ah la mozzarella Va bene la mozzarella Ok A te piace la mozzarella Mi ricordo Ok Mozzarella Fino qua Mozzarella Fino al mondo E anche qua Mozzarella Altissima mozzarella Beh andiamo con questa mozzarella Fino Fino Ti avete visto quanto è diventata brava Arene Ancora più brava che prima Stai lavorando tanto in television Tira la pinna Non me ne trovi c'è Ok E stop Giù E 2 Bravissime E 3 E 9 Brava Yasmina E 10 10 Abbiamo fatta 1 2 Poi Uiii Si Dopo saltiamo insieme Si Ti piace la trave Yasmina Voglio saltare Lei vuole saltare Che brava Voglio saltare Sette la trave Vero Gloria Si Si Ok Facciamo così Andiamo Beh le braccia fuori E facciamo che Siamo i coniglietti Ti piacciono i sediati Piccoli saltelli Piccolissimi Bravissima Gloria Grazie Coniglio Chi dà il collo Brava Ti piacciono i coniglietti Sė Bravissima Guarda il dì Edi Brava Guarda il dì Edi Bravissima Ehehe Bravissima Questa Fantastico io sago su questa saliamo bene bravissima e oggi Giada dobbiamo prendere gelato sai dove è il gelato? il gelato è sotto di noi e dobbiamo prenderlo qui gelato 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 bravissima che gusto stai prendendo? la fragola io sto prendendo anche la fragola e il limone è buon lucida bravissima bravissima allora torniamo di là è bello io non vedo l'ordine dei reti esercizi bravissima 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 Martina che campionanza bravissima dai dai ce la fai bravissima sei quasi sei quasi Martina bravissima 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 tu vorresti andare a fare il grande anche io si ok super Anna vediamo questa capriola wow wow bravissima 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 stupenda fatto i 5 Anna fantastica tu mi stai facendo il solettico adesso tocca Elisa che ha 10 anni vero Elisa brava Bravissime Bravissima Elisa Bravissima Super 5 Una, due, tre Bravissima Yasmin Bravissima 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 Wow Questo sarà su youtube Sarete le stelle di Sophie Elen Che belle Sei pronta per essere La stella di Sophie Elen Dimmi tutto Io sono la Vip di Abu Dhabi C'è la Vip di Abu Dhabi Cosa? Ragazzi Ele nuora parla inglese Vai Ele How are you How are you? Bravissima Come si dice ciao? Hello Hello Ok Miss Giulia Vai Supervolteggio Salti Wow Wow Oh yeah Wow E 10 Perfetto Hai ricevuto Grandissima La mia Ele Ti sei divertita oggi Si Anche te Di Abu Dhabi Si Si Benissimo Cosa Cos'è questo? Ragazzi Oh my goodness Gloria Mi aiuti a prenderla Oh my goodness Oh my goodness Grazie ragazzi Grazie Gloria Il tuo nome è qui Miss Giada Giulia Anna Martina Eleonora E Yasmina Che bravi Grazie mille ragazzi Senti stupende Venite a darmi un abbraccio Grazie Grazie mille a tutti Grazie Grazie Anche te Rina Vieni 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 Eleonora Grazie per avermi presentato la tua squadra Siete bellissime E gentilissime E sono super fiera di voi È tutto il lavoro che state facendo in palestra Siete delle ginnastiche fantastiche Vi ringrazio per avermi fatto vedere un po' di ginnastica con voi Facciamo helliotography sui dei vostri libri? Sì! Ok, portatemi qua i libri così vi ritirmo. Un super grazie a Elena che mi ha presentato la sua fantastica squadra e un super grazie a ognuno di voi che ha fatto vedere il vostro lavoro che vi ha portato ad oggi, che riuscite a fare tante bellissime cose in gimnastica e penso che è bellissimo che condividiamo la stessa passione e io vi auguro un grandissimo invoco al lupo, per tutte le vostre prossime cari, lasciate un like! Bravissime ragazzi e ci vediamo al prossimo video a tre, ciao Sofia e Elena, pronte? Uno, due, tre Ciao Sofia e Elena Ciao Sofia e Elena